Il dottor Stefano Liuzzi è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Dottor Stefano Liuzzi, abbiamo fatto con lei una serie di interviste in cui abbiamo analizzato, sviscerato le varie problematiche regionali di competenza dell'ente regione e ora è il momento dell'appello al voto. Immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore e la domanda è questa. Perché votare Stefano Liuzzi? Perché metterò in questo impegno politico lo stesso impegno che ho messo negli anni passati in politica, ma soprattutto l'entusiasmo, l'impegno, la voglia di fare e la professionalità che mi si riconosce anche nella mia professione. Ecco, in particolar modo oggi assistiamo a tanti fenomeni in cui si promettono posti di lavoro, esiste purtroppo il fenomeno del voto di scambio, un fenomeno da debellare. Come invertire questa rotta? Io posso dire la mia esperienza. Io ho un'esperienza familiare di politica. Mio padre è stato parlamentare, è stato consigliere regionale, è stato sindaco negli anni. Io ho cominciato a fare il consigliere provinciale che avevo 35 anni, ho fatto il consigliere comunale, il vice sindaco e sono sempre stato uno dei più suffragati. Questo perché? Perché non ho mai fatto promesse che non potessi mantenere. Per cui, come si inverte? Dovrebbero essere gli elettori che dovrebbero cominciare a conoscere i candidati e chi si propone. Credo, io sono sicuro che una persona possa essere presa in giro una volta, due volte, la terza volta non credo. È un problema di scelta da parte degli elettori. C'è un'offerta vastissima di candidati, tantissime brave persone, qualcuna probabilmente un po' meno. Basta saper scegliere, basta guardare quelle che è anche la storia e il curriculum dei vari candidati. Di tutti i partiti, è evidente. È un discorso trasversale questo. Sarebbe manicheo dire che i miei sono i migliori, gli altri sono i peggiori. In questo caso i candidati siamo uomini e come gli uomini ci sono le brave persone e quelle un po' meno brave.